Sì, effettivamente, io posso veramente testimoniarlo, essendo vissuta accanto a lui, siamo stati sposati 52 anni, quindi insomma è un lungo periodo, un lungo tempo e lo posso testimoniare veramente perché tutta la sua vita, dopo la famiglia, come ho detto, era dedicata a Rimini e a rendere importante Rimini, darle un posto nella storia sia della Seconda Guerra Mondiale ma anche nella storia in generale, nella grande storia, che so, sulle battaglie di Silla a Rimini, sul Giulio Cesare, sul castello malatestiano del Brunelleschi che è stato il primo lui a parlarne sul giornale raccogliendo gli studi, insomma, di altre persone. Quindi voglio dire, ha sempre cercato di tenere, di dare importanza veramente a tutta la storia di Rimini in tutti i suoi secoli. Grazie. Beh, innanzitutto direi perché mio padre si sentiva come un figlio del borgo e quindi prima di tutto la radice sua è nata qui e lui ha questa provenienza e quindi di queste radici era orgoglioso e quindi era doveroso in qualche modo che anche il borgo ci fosse questa corrispondenza tra lui e questo affetto e il borgo stesso che in qualche modo potesse ricordarlo. Il secondo, per tenere sempre a vivere la memoria di una persona che ha dedicato la sua vita a tre funzioni principali, una quella di insegnamento, una quella del giornalismo, quindi della cronica, ma un terzo e quell'ultimo della sua vita, forse più, che sentiva più importante, quella della storia. La sua attività è stata quella di riscoprire un fatto della seconda guerra mondiale di estrema importanza che invece è stato sottacciuto per troppo tempo. E con questa importanza che lui ha visto nell'evento è nata un po' tutta la sua ricerca storica che è durata decenni e decenni ed è stato, diciamo così, probabilmente il primo che ha portato alla luce queste cose e che è stato da quel momento un po' riconosciuto come un po' lo storico della linea gotica. Direi anche che qualcuno l'ha definito come uno sliman, cioè una persona che è riuscito a riportare come la città di Troia, è riuscito in qualche modo a riportare alla luce un fatto che sembrava seppolto nel tempo. Grazie. Grazie a tutti.